Bisogna cercare di razionalizzare i costi dell'azienda anche partendo da questo, non sarà l'unica variabile dove stiamo agendo. L'amministrazione conferma, ad essere tagliate sono le corse serali meno frequentate. Dopo le 20.30 non si potrà più salire sui bus della linea 3 Ferrovia Salboro e 5 Stazione Volta Barozzo, anche dopo il ripristino dell'orario autunno-inverno che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre. Secondo l'assessore alla mobilità, la cancellazione delle corse serali è motivata da un'indagine eseguita dagli operatori. Dopo una certa ora, gli utenti sarebbero davvero pochi. 6 utenti dopo le 20.30. Verrà tenuta la corsa del 5 la domenica sera perché è usufruita dagli studenti che devono raggiungere i vari posti dove sono alloggiati. I maggiori disagi saranno registrati da chi dovrà andare all'ospedale di sera, come i pazienti, i familiari o gli operatori sanitari in turno di notte. Ma secondo Grigoletto, l'operazione sarebbe necessaria a razionalizzare e ripianare i conti dell'azienda PS Holding. Porta in un momento in cui l'azienda ha gravi sofferenze di cassa, ricordo che ha un bilancio negativo di conto cassa di 3.900.000 euro e 5.200.000 in conto capitale, Grazie a tutti.